Ragazzi, benvenuti nella seconda parte di Karts Motori Irugenti Sì, di Karts Motori Irugenti Di Karts Motori Irugenti Allora, adesso dobbiamo andare alla tenda di Fillmore Perché c'è un nuovamento Ah, bella questa Il Turbo con Fillmore È una gara E che qua mi regalano il Turbo Bello, bellissima Eh, c'è Ehi, Fillmore, che cosa vuoi? Un altro carico di bumba speciale, amico mio Wow, Fillmore, che cosa c'è dentro? È molto buona, eh? Io la chiamo Succo Vivoloso a Super Ottami Mi aiuterà ad andare più veloce C'è solo un modo per scoprirlo, amico Stai registrandoci Yeah, sono ritornate le nostre fane Ah, c'è Ramon e c'è Fillmore Sarà una gara fighissima E con R2, come vi ho già detto, si usa il Turbo Ma visto che noi ormai ce l'abbiamo intero Dato che l'ho sbloccato tutto Perché non sbrigarsi? Ah, ah Sarà una gara fighissima Quanto è figo il gioco Infatti guardate come sono brava Ecco, questo è un po' particolare Perché dovremmo andare tra i boschi Non sarà una cavolata Ma Che non è facile sterzare qui Spesso se poi si cade dal ponte Qui vi consiglio di essere molto allenati per questa gara Anche per quelle piston cup Lì dovete essere allenati al massimo Anche su questa non si scherza Ragazzi Eeeh, bella questa Yeah Purtrodo che la pista è abbastanza lunga Guarda Se no quest'ora non ce l'abbè fatta No, ho sbagliato Sono fuoristrada No Beh, mi è andato bene Che mi ha riportato In carreggiata E sarebbe in testa Eh Super bene Yeah Spondiamo il cancello State attenti a quegli altoparlanti Piantati lì per terra Perché Ti faranno rallentare un po' Ma non tanto, eh Ecco, anche questi cespughi marroni No, adesso Ah, sono fuoristrada Beh Ecco che è iniziato il secondo giro, ragazzi Yeah Sai che è un portento di auto da corsa Me lo sento La 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 Figo Voilà Ah State attenti Ai bordi della ecco Della strada Perché se no Non sarà facile che rimaniate in vantaggio così Eh, ragazzi Non l'avevo visto Giuro che proprio non l'avevo visto Cavoli Sono andato a sbattere sulla freccia Irripetutamente Infatti si vedeva Che filmore E gli altri erano dietro Cavoli Bella Chi ha riso in quel modo strano? Cioè no Voglio sapere chi è stato a ridere in quel modo Mh, vabbè Wow, figo Questo gioco è figo Yeah Poi nel capitolo 3, se non mi sbaglio Nel 2 Con questo qua C'è una gara in cui Noi dobbiamo utilizzare delle gomme Enormi Che diventiamo tipo monster track È divertentissimo Aia Oddio È l'ultimo giro Qui dobbiamo essere Super veloci E super allenati Ah, io questo gioco Quando l'ho finito Mi ci sono divertito un bel po' Juhuu